Buongiorno ragazzi, bentrovati sul canale. Vorrei dare il benvenuto ai nuovi iscritti. Volevo raccontarvi una cosa che mi è successa una settimana fa. Mi hanno fermato per strada, mentre camminavo con un mio amico, stavamo passeggiando per il centro di Bergamo, e improvvisamente vediamo un gruppo di ragazze che probabilmente stavano festeggiando l'addio al nubilato. E quindi una di queste ragazze si avvicina, probabilmente la sposa, e ci chiede se potevamo farle un favore. Io lì per lì ero abbastanza sorpreso, e a quel punto il mio amico mi ha detto dai dai vedi che cosa vuole. Vabbè vediamo che cosa vuole sta ragazza. Stiamo facendo l'addio al nubilato, avremmo bisogno di qualcuno che cantasse per noi. Io ho detto caldo, lo sapevano, hanno beccato la persona giusta. E mi hanno fatto cantare per strada. Quindi è andata a finire che abbiamo dovuto duettare, perché la sfida in questione, la scommessa, era che la sposa fermasse qualcuno per strada e lo facesse cantare. La canzone era Acqua e sale di Mina Ecelentano. Io con un vistoso imbarazzo ho cantato. Vi metto qui il video, ma oscurerò i volti delle ragazze che hanno partecipato, perché non ho avuto da parte loro un riscontro se potevo o non potevo mettere il video sul canale. Spero che quantomeno io possa strapparvi un sorriso. Propositivo. Con un corpo mi trattieni il picchiere, mi fai male, vuoi godere. Se mi fermi in un ancora ore, 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 piene. E se piove un po' di meno, uno stagno, un 3.000, non conviene. Sono io a pagare amore tutte le pene. Bravi! Bene, se il video vi è piaciuto vi pregherai di non lasciare un like e se non siete ancora iscritti di iscrivervi al mio canale. Ciao!